Ed ecco come si presenta. 10 120 nr, un amo a gambo lungo, a gomito marcato. Io lo utilizzo per la stragrande delle mie pescate perché ho una vasta scelta, perché infatti parte dal 16 e finisce al numero 4. Facciamo l'innesco del gambero. Prendiamo il gambero e il nostro ago, lo infilziamo, dopodiché prendiamo il filo elastico e senza stringere troppo lo avvolgiamo tipo salsicciotto. In questo caso ho montato un amo del 10, per l'esattezza il 10 120 nr, poi metto l'ago nel amo e faccio slittare il nostro gambero sul bracciolo. Ciao.